Salve, sono tutti i giovanoni della Gabriella Piuwaineri, delegazione Lazio. In questo momento dobbiamo restare tutti a casa per il bene nostro e quello degli altri, ma noi donne del vino non vi lasciamo solo. Venite con me a fare un viaggio virtuale tra le mie e le mie. Quando tutto sarà finito vi aspetto qui. Forza, insieme ce la faremo. Le donne del vino, con voi.